utopia loro sono e sono arrabbiatissimi con me perché l'ho trattati male dice nella telecronaca però voi da casa fate un applauso perché loro hanno vinto la classifica della classe gran crociera quindi alla faccia del divertimento della crociera sono di qui hanno vinto fate vedere il trofeo hanno vinto la classifica perché siete arrabbiati con me che ho detto io nella telecronaca in partenza cioè quella quel barchino lì una classe ior irc non si è capito bene il barchino è un pierrot le parole quindi non si è capito bene bene vedi come stanno attenti mi fa piacere loro sono gli ascoltatori più importanti che noi abbiamo la barca è un pierrot 925 quindi altro che barchino l'irc l'orc è la storia della vela è allora lui è uno dei più importanti a bordo perché è quello che cucina ha detto proprio lui tu hai cucinato tutto il tempo scherzo perché su un pierrot che ti metti pure a cucinare c'era la frittata della mamma quella è importante cosa facevi tu a bordo il timoniere l'armatore veramente cucina l'armatore la frittata della mamma il timoniere l'armatore senti raccontaci i momenti chiave di questa vostra round the oly and race 2021 abbiamo fatto una bella partenza siamo partiti la prima barca la classe gran crociera e niente poi dai i voti all'equipaggio dai chi è stato bravo chi poteva fare meglio ci si applica poco capito quelle cose lì che no no si sono applicati tutti 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 bravissi allora tu che facevi a bordo stavo a bordo lui che facevi a bordo stavo a bordo era proprio poi dice che te eri timido mannaggia se hai passato la timidezza tutta loro taylor e come si taylorigia si taylor si si taylor a un pierrot 925 intervista splendida ricordo siamo senza winch con self day niente quindi tutto cosa un pierrot che facciamo lo cambiamo nei suoi che ora siete arrivati 18 17 59 c'è ragione dice ti pare che lo cambiamo nella sua bellezza il pierrot meno di un'ora dai primi che sono arrivati diciamo i grossi nella nostra categoria un'ora dopo i primi della categoria prima in 33 minuti dopo il secondo dopo era alla notte più reali tu che eri timido l'altranno racconta c'è adesso racconta c'è la regata adesso io trovo ricordo te lo ricordo così io ero il velaio timido tu te lo ricordi che me l'hai detto non sei mai visto un velaio timido io mi ricordo tutto a memoria quello che ho detto hai capito però racconta c'è sta regata abbiamo fatto abbiamo cercato di portare la barca meglio siamo partiti bene che per me mezza opera e poi il resto è venuto piano piano da sé perché il meteorologo ci ha fatto una buonissima previsione siamo andati dal lato giusto ci avevi tutto però è il taylor il meteorologo cioè il timido il velaio timido meteorologo ma tu avevi previsto tutto qualcosa il primo giorno il secondo giorno è stato veramente un'incogna non risultava nessuna delle previsioni era utile a fare la rotta giusta per fortuna nella partenza e nel scegliere il primo lato sulla sinistra il medio ha risposto a quelle grandi previsioni quindi i ragazzi sono stati bravissimi a seguire le indicazioni anche di notte bravissimi hanno preso un po d'acqua un gruppo un gruppo d'acqua che io li ho avvisati ma loro non hanno sentito i miei avvisi quindi sono bagnati cionostante non si sono lui mi diceva guardate che piove voi no non piove però invece piove abbiamo visto lui ha detto entriamoci nel gruppo così prendiamo un po più di aria hai capito ecco come si vince la round e olian race nel nella classe gran crociera col pierrot 925 adesso programmi futuri so coppa america volvocian race facciamo la middle così tanto per giocare veramente no è vero è vero magari no perché no perché no e laio probabilmente lui volca vorrà cambiare barca vedremo quindi se cambia barca cambia pure vele e c'era sì fa qualcosa fare invece tu i meteorologi di sto periodo una tragedia proprio non so se è meglio il fatto ormai proprio le pensioni non c'è piano più dove volete però per fortuna o almeno un giorno ha risposto a quello che sta la realtà comunque ricordo che 7 metri e 50 di lunghezza galleggiamento questa barca capito 7 metri e mezzo ragazzi siete bellissimi siete splendidi ciao alla prossima